Facciamo un bilancio della stagione, come è andata finora la sfida più ostica che hai affrontato? Tipo commercialista, facciamo un bilancio. Sono molto contento di essere tornato in Fortitudo, prima di tutto. Sono molto contento di allenare questi ragazzi perché fondamentalmente poi sono... sono difficili da allenare ma sono bravissime persone, quindi... poi alla fine la cosa che conta per me è quella. Cerco di dare una mano e quindi ogni tanto sono costretto a cazziarli, a redarguirli, però sostanzialmente alla fine è un piacere, un piacere stare con loro, un piacere condividere vittorie e sconfitte. E fortunatamente nel bilancio delle sconfitte sono state molte meno delle vittorie, quindi sono contento anche per quello. La sfida più ostica è proprio questa, cioè il fatto di riuscire a gestire un gruppo di persone maturo da un certo punto di vista perché come età sono anagrafica, cestistica, sono quasi... tanti sono in un'età avanzata, però è anche vero che a quell'età lì diventi... hai una personalità magari un po' più forte, ti cerchi di imporre un po' di più, anche col turnatore magari il rapporto non è sempre così semplice. Diciamo che la sfida più grande è quella di riuscire a gestire il loro carattere, a gestire loro come giocatori e poi secondo me hanno le abilità per giocare e vincere contro chiunque. Come vi state preparando tecnicamente alla sfida? Che tipo di squadra affronterete? So, perché conosco il loro allenatore, conosco buona parte dei giocatori che giocano a Casale già da un paio d'anni, quindi sostanzialmente sono una squadra che è abituata a giocare insieme, è una squadra allenata bene, è una squadra di giocatori che sanno cosa devono fare in campo. Ci prepareremo per quello che sarà appunto il discorso tattico e anche chiaramente poi di preparazione fisica dopo due serie dove il dispendio di energie fisiche è stato notevole, ma è stato secondo me soprattutto notevole quello dal punto di vista mentale, cioè riuscire a rimanere concentrati in serie così lunga, al meglio delle cinque, non è semplice, anche con viaggi in mezzo, poi partite sostanzialmente mai facili, quindi quella è la parte secondo me più complicata. In conferenza stampa dopo Verona hai detto che con Varese e Capodorlando è nato subito l'amore, mentre con la fortitudo no, come mai? E adesso come è cambiato questo rapporto? Sostanzialmente per colpa mia, perché io sono arrivato da bimbo a Varese, mi ricordo che era arrivato con una felpa arancione, gli occhialini tondi, sfigato completamente, e quindi come dire, facevo quasi pena e per compassione la gente si è affezionata a me, poi piccolo, bianco, smunto, ero veramente sfigato e quindi era più semplice. Poi lì nel percorso a Varese sono diventato un giocatore di palacanestro un po' più, come dire, serio ed è chiaramente poi nato questo amore reciproco, culminato con la vittoria dello Scudetto, quindi insomma con un grande evento vissuto insieme e poi sono andato a giocare, sono venuto a giocare in fortitudo. Nell'ultimo periodo mio a Varese ero diventato un po' autonomo o ingestibile e qui alla fortitudo la paura che avevano tutti è che fossi completamente suonato. Mi ricordo che ci allenavamo per esempio a Cerebì e prima dell'allenamento ci allenavano i bambini e io vedevo le mamme che venivano e portavano via i bambini perché non volevano che entrassero in contatto con me perché probabilmente pensavano che fossi tipo, non so, un mangiafuoco piuttosto che... E quindi diciamo che la mia prima preoccupazione fu quella di far sì che la gente capisse che non ero poi così squilibrato, però questo mi ha distolto un po' da quello che invece in realtà dovevo fare, cioè giocare bene a palacanestro. Il sogno finale è la Serie A. Pensi di avere un roster in grado di gestire questo tipo di campionato pronto oppure che tipo di giocatore vorresti per la Serie A? Non cambierei uno dei miei giocatori con nessun altro di tutti quelli che giocano in Serie A2. Sono sicuro che abbiamo tutto per riuscire ad arrivare in fondo. Se mi parli di sogno, io ho un sogno che non è quello di arrivare in Serie A, ci mancherebbe altro, ma è un altro sogno che ho che se mai dovesse succedere, che riusciremo a esaudirlo, lo dirò. Ma non lo dico prima che non finisca la stagione. Il tuo momento più bello da giocatore della Fortitudo? Il momento più bello secondo me è di quando io ho detto di no alla Virtus. È stato secondo me il momento personalmente più gratificante, anche perché è una cosa in cui, a parte che mi è capitata proprio, l'ho vissuta in modo particolare, perché avevo già quasi firmato la Virtus, poi io ho ricevuto questa storia, l'ho raccontata spesso, avevo ricevuto un messaggio da uno sconosciuto e mi diceva, ma guarda, io con la maglia della Virtus proprio non ti ci vedo. Mi ha aperto un po', mi ha illuminato un po' ed era una cosa che rispondeva assolutamente alla verità. Cioè io non avevo giocato a Varese, poi chiaramente in Fortitudo, e da Fortitudino una scelta del genere non mi apparteneva. Ed era strano perché non c'era arrivato da solo. E poi quando invece mi sono reso conto che era assolutamente una cosa da fare, diciamo che l'ho vissuta con particolare entusiasmo, perché è una cosa che secondo me oggi mi ha dato la possibilità di tornare come allenatore. Se io fossi andato in Virtus probabilmente oggi non sarei qui ad allenare la Fortitudo. E sulla panchina della Fortitudo? Guarda, oggi in San Stampo ho detto tre volte che non so se allenerò ancora la Fortitudo, ma non so neanche se allenerò in senso generale. e quindi vedremo, ma non è una preoccupazione che deve, come dire, non è la preoccupazione del momento, la preoccupazione del momento è la nostra concentrazione, la mia o di chiunque deve essere focalizzata sul lunedì, sulla partita di Casale. Diciamo che uno rimane poi fortitudino per tutta la vita se fa determinate scelte.